La reazione di Loredana Lecciso Romina Power e Albano di nuovo insieme, la reazione di Loredana Lecciso Albano e Romina Power, inizia il tour estivo, e Loredana Lecciso? . Romina Power e Albano si sono ritrovati ieri sera a Chieti, il motivo? Presto detto. Il duo Canoro ha fatto tappa nella città abruzzese per portare un po' di felicità con le loro i. . Romina e Albano hanno infatti tenuto uno dei loro concerti estivi all'Arena La Civitella, la cantante ha postato proprio poche ore fa una foto in cui le sagome di lei e del suo ex marito vengono trasportate in giro per la città su una macchina rossa. . . Inoltre, Romina Power ha voluto mostrare la devozione che ha per Albano attraverso due foto risalenti al concerto di ieri, sotto di esse, la cantante statunitense ha scritto che questa era la sua felicità. Come l'avrà presa Loredana Lecciso dopo questo riavvicinamento dei due? Stando a quanto scritto da Novella 2000, Loredana avrebbe deciso di non presenziare alle tappe del tour del fidanzato, nonostante egli lo desiderasse tanto. . Loredana Lecciso lontana da Albano, la foto di Romina Power. Loredana Lecciso ha preferito quindi godersi le vacanze in relax insieme ai figli, mentre il fidanzato Albano è attualmente tornato al lavoro con il suo tour estivo in giro per le città italiane. . 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